Buon pomeriggio dai live e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Sono ora abbastanza concitate per quanto riguarda le decisioni sul futuro prossimo del Pagna vaccinale in Lombardia e anche nella nostra breccia. Infatti arrivano notizie da tutte le parti, cerchiamo di mettere ordine partendo con quello che è il portale di prenotazione di poste italiane, l'abbiamo annunciato già nella giornata di ieri, l'aveva detto il commissario Figliuolo in visita a Milano, che da sabato sarebbe partito questo nuovo sistema operativo per la vaccinazione massiva. Allora sentiamo proprio dalle parole di Mirko Mischiatti che ha terminato di parlare pochi minuti fa e ha spiegato quali saranno i quattro canali di prenotazione predisposti per la vaccinazione massiva. La prenotazione è strutturata su quattro canali differenti. Il primo canale è il canale digitale, quindi sarà disponibile a partire da domani questo canale e il canale digitale consente la prenotazione tramite web e app, concettualmente, quindi qualsiasi tipologia di dispositivo fisso piuttosto che di dispositivo modibile. Per quanto riguarda invece la prenotazione tramite call center, già stata descritta precedentemente, tramite il numero di telefono si potrà prenotare direttamente. Oggi il call center l'ha dedicato solamente a contenuti informativi, da domani si potrà effettuare, per le persone che hanno meno dimestichezza, diciamo, con il digitale, si potrà prenotare direttamente tramite il call center, chiamando il call center. Dopodiché, questo diciamo grazie alla capillarità di poste italiane e alla vicinanza che poste italiane ha nei territori, abbiamo anche aggiunto due canali che sono, da una parte, la possibilità di prenotare tramite gli ATM, che sarebbe i nostri postamat, per intenderci, quindi all'ufficio postale, si potrà mettere la testa sanitaria dentro i nostri postamat e si potrà, in maniera guidata e molto semplice, effettuare la prenotazione. Dopodiché abbiamo messo anche a disposizione i nostri postini, noi abbiamo circa 4100 postini in Lombardia, tutti dotati di uno smartphone, quindi si potrà effettuare anche, per le persone, come prima, che hanno più difficoltà, diciamo, con il contesto digitale, di effettuare la prenotazione tramite i postini. I postini lasceranno la ricevuta tramite il loro smartphone, la loro stampantina della prenotazione e la persona potrà poi recarsi al centro di somministrazione. Nella conferenza stampa, che è ancora in corso in Regione Lombardia per presentare questo piano vaccinale, è stato presentato anche una sorta di video tutorial per quanto riguarda la prenotazione attraverso il primo canale che abbiamo sentito dire da Mirko Michiati, ovvero attraverso il portale web di Poste Italiane. Allora vediamo quale sarà il modus operandi di questo sistema, cosa dovremo fare per prenotarci per la vaccinazione anti-Covid. Segui le istruzioni per prenotare il vaccino anti-Covid-19 in modo semplice. Per iniziare, prendi la tua tessera sanitaria e inserisci negli appositi campi il numero della tessera sanitaria e il tuo codice fiscale. Seleziona il consenso al trattamento dei tuoi dati personali. Clicca sulla voce al CEDI per proseguire. Ora inserisci nel campo richiesto il tuo CAP per individuare il centro vaccinale più vicino a te. Successivamente inserisci il numero di cellulare su cui vorrai ricevere la conferma con i dati della prenotazione. Inserisci la tua data di nascita. Clicca su Cerca per proseguire. Il sistema ti mostrerà data, orario e indirizzo dei centri vaccinali disponibili per effettuare la vaccinazione. Scegli la data, l'orario, il centro vaccinale che preferisci e prosegui selezionando Conferma. Inserisci in questa pagina il codice che hai appena ricevuto sul numero di cellulare che hai indicato. Clicca su Conferma per proseguire. Ora visualizzerai tutti i dettagli della tua prenotazione, che riceverai anche via SMS sul tuo cellulare. Clicca su Stampa per avere la ricevuta della conferma di prenotazione e su Chiudi per terminare. Puoi prenotare il vaccino anti-covid-19 su prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it Scopri di più su regione.lombardia.it Ovviamente maggiori dettagli li avremo nel corso della giornata e ovviamente nei prossimi giorni. Per quanto riguarda anche quali saranno le categorie con cui si partirà con questa vaccinazione e potrà accedere alla prenotazione, che tra l'altro sarà una prenotazione. A differenza di che è stata la prima fase, ricorderete che attraverso il portale online di Regione Lombardia si poteva dare la propria adesione e solo successivamente si riceveva l'appuntamento e che in questo caso sarà direttamente una prenotazione. Come abbiamo visto nel video, dopo aver inserito tutti i dati e fatto tutto questo percorso, si riceverà data ora e luogo in cui verrà effettuata la somministrazione. Intanto arrivano notizie anche per quanto riguarda la vaccinazione massiva a Brescia, più in particolare l'Hub del Centro Fiera. Notizie che arrivano da conferenza stampa attualmente in corso nella nostra città. Il polo vaccinali sarà operativo dal 12 aprile con 12 linee vaccinali. Entro fine aprile dovrebbero essere 48 e potrebbero arrivare ad un massimo di 72 nel corso delle settimane successive, quindi 72 linee vaccinali nella Fiera di Brescia. Diciamo così a partire dal prossimo mese. Saranno operativi contemporaneamente 12 ore al giorno, quindi dalle 8 alle 20 tutti i giorni, 7 su 7, compreso domenica, festivi senza interruzioni. La campagna vaccinale massiva verrà inaugurata con la vaccinazione a Brescia quantomeno delle persone dai 75 ai 79 anni. Quindi queste sono le ultime informazioni, davvero freschissime, arrivate in redazione pochi secondi fa in merito al Lab vaccinale della Fiera. Ora ci allontaniamo solo momentaneamente dal tema vaccini che ritroveremo nel corso del telegiornale per degli approfondimenti e ci spostiamo invece su quello che è il nuovo decreto. È stato approvato nella serata di ieri dal Consiglio dei Ministri, il decreto con le norme anti-covid che ci accompagnerà per tutto il mese di aprile a partire da dopo pari, qua sono le linee guida, insomma sono state confermate, quelle che avevamo già anticipato nella giornata di ieri, nelle varie indiscrezioni e nella bozza. Vediamole insieme. In arancione e rosso fino al 30 aprile abolite le zone gialle, scuola in presenza anche in zona rossa fino all'aprile, obbligo di vaccinazione per i sanitari e per chi svolge attività nelle strutture sociosanitarie pubbliche, in farmacie, parafarmacie e studi professionali. Scudo e non punibili i vaccinatori se hanno rispettato le corrette procedure previste per la somministrazione di Gino. Sono questi i principali provvedimenti adottati ieri sera dal Consiglio dei Ministri. Il decreto è anche la possibilità entro il 30 aprile di deliberare in Consiglio dei Ministri una valora lo consentano i dati sull'andamento dell'epidemia. Gli operatori sanitari Cinarsi potranno essere adibiti, ove possibile, ad altre mansioni che non compone del contagio. In caso contrario, la retribuzione non sarà dovuta. La dispo per gli autonomi. Ieri, contestualmente, a quella che è stata il generale Figliuolo nella nostra regione, ha preso parola anche il presidente di Legione Lombardia, Fontana. Ha parlato di quelli che sono i dati attualmente della Lombardia, dati che si migliorano, ma la situazione resta comunque critica, specialmente per quanto riguarda i ricoveri. I dati li vedremo poi subito dopo. La notizia che ha dato Fondera Lombardia, però, non può sperare in meglio, non può sperare nell'arancione, almeno per un'altra decina di giorni, fino all'11 del mese di aprile. Tutti i dati, sì, come sempre, vengono comuniati alla fine della settimana. Il venerdì potremo fare il punto. Quello che posso dire è che certi dati stanno sicuramente migliorando, si è abbassato in maniera molto considerevole. ancora un po' di valutazioni negative legate all'occupazione degli ospedali e delle terapie intensive. Fino a venerdì sicuro saremo per tutta la settimana di Pasqua, tenendo conto che la settimana di Pasqua è praticamente rossa per tutto il Paese, sulla base delle disposizioni del Governo. Mi auguro che finito il periodo delle vacanze Pasqua, ricominciare a respirare. E allora, come promesso, andiamo sul nostro sito in telebrescia.tv anche per capire proprio quali sono i dati del contagi più aggiornato e quelli della serata di ieri. Come possiamo vedere dal titolo, c'è uno spiraglio di luce. Il contagio si riduce in Lombardia e anche a Brescia. Purtroppo non il numero dei decessi. Vediamo insieme l'infografica per i dati nel dettaglio. Vediamo che i tamponi tornano su quote abbastanza alte, abbastanza usuali per i giorni feriali. 56.747 quelli processati nella giornata di ieri che hanno portato alla luce poco meno di 4.000 nuovi casi positivi. Ciò significa un tasso di positività che cala, anche se di poco, ma comunque cala, scende sotto il 7% e si assesta al 6,9%. Per quanto riguarda i dati provinciali, Brescia torna ad essere seconda con 570 nuovi contagi in Lombardia. Milano sempre al primo posto, sfiora i mille casi, ma attenzione perché comunque vediamo che anche altre province cominciano purtroppo a salire, mentre Brescia, ecco, questo dobbiamo dirlo, si riduce. Vediamo Monzebrianza 467, Varese 388, via via insomma tutte le province lombarde. Per quanto riguarda i ricoveri, vediamo che le notizie sono abbastanza belle che arrivano questi dati, se non fosse altro che le terapie intensive crescono, ma di un solo paziente in più. Quanto riguarda invece i ricoveri non in terapia intensiva, questi diminuiscono, meno 76 dopo l'aumento abbastanza grosso, più 115 che si era registrato la giornata precedente. Per quanto riguarda i decessi, qui l'abbiamo detto, l'abbiamo detto anche nel nostro titolo, purtroppo una cifra che resta davvero molto alta, sono 100 quelli segnalati nella nostra regione per la sola giornata di ieri. ATS Brescia invece ci ha poi fatto sapere che quelli segnalati nell'ultima giornata nella nostra provincia e nella nostra città sono stati 17. Ora, come al solito, ci concentriamo invece su quelli che sono i dati della nostra città, della nostra provincia, o meglio, più precisamente, della SST Spedali Civili di Brescia, che per il secondo o terzo giorno consecutivo ci racconta, ci dice, di un ricoveri che sono in calo. Vediamo insieme come. Dopo la diminuzione di ieri, si conferma il trend di leggera discesa dei ricoveri Covid nelle strutture SST Spedali Civili di Brescia. Sono 442 i pazienti ricoveri, 22 in meno rispetto ai 464 di ieri. Si riducono, anche se in misura minima, i posti letto in terapia in 85 passano a 44. Si osserva una progressiva riduzione dell'afflusso dei pazienti Covid al pronto soccorso, prosegue la nota della direzione. Nell'ultima giornata, le persone che suntemps a causa dei sintomi riconducibili al coronavirus sono state 26, a fronte di un incremento di pazienti non Covid che sono stati invece 94. Dalla sostanziale stabilità con fluttuazioni della scorsa settimana, siamo quindi passati a una riduzione, nella speranza che possa guadagnare in incisività per condurci ad un'uscita dalla fase critica che ormai viviamo da settimane. Torniamo ora a quella che è stata la visita del commissario straordinario all'emergenza sanitaria nella giornata di ieri a Milano e poi successivamente con un fuori programma anche al Lab vaccinale di Bergamo insieme al Sindaco Gori. Sentiamo però altre dichiarazioni del Presidente Attilio Fontana che appunto ha commentato le dichiarazioni di Figliuolo che ha detto che il piano vaccinale Lombardo alla fine è coerente con quello nazionale. Dice che abbiamo sicuramente predisposto un progetto che è compatibile ed è assolutamente in linea con quanto previsto dal Governo, anzi siamo un pochettino più avanti rispetto a quelle che erano le richieste che ci venivano avanzate. Ma il generale Figliuolo ha anche apprezzato i centri vaccinali, ha molto apprezzato l'ospedale in fiera, quindi complessivamente devo dire che è una visita molto positiva. Come è stato ampiamente riportato noi inizieremo con il portale di poste la prenotazione nei primi giorni di aprile sostanzialmente la quantità di vaccini che sono necessari per iniziare questa nuova fase dovrebbero arrivare intorno al 13-14 di aprile e quindi in quella data inizierà la vaccinazione massiva. Ieri in Lombardia non c'è stato solo il commissario Figliuolo c'è stato anche il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio che ha parlato dell'importanza fondamentale della Lombardia per quanto riguarda il successo di una campagna vaccinale nazionale non potrebbe essere altrimenti visti i numeri della regione più grande d'Italia? Noi abbiamo un obiettivo vaccinare, vaccinare, vaccinare in tutta Italia secondo le caratteristiche e le peculiarità che i territori hanno perché quando si vedono i numeri e si fanno i confronti tra i numeri bisogna capire che dietro questi numeri ci sono territori che hanno alcune volte organizzazioni diverse hanno strutture organizzative diverse ma anche hanno strutturese dal punto di vista della costituzione del territorio, della raggiungibilità e quant'altro credo che la Lombardia i numeri, l'ho detto anche ieri in commissione dove sono stato udito è una regione che ha un sesto dei cittadini italiani quindi nell'ambito dei famosi 500.000 vaccinati al giorno ha un ruolo fondamentale e importantissimo se noi non raggiungiamo gli obiettivi nella regione Lombardia come in altre regioni importanti evidentemente quei 500.000 faticheranno ad arrivare dal piano che abbiamo visto questo messaggio è molto chiaro addirittura si va oltre il valore che la stessa Lombardia si è fissato noi saremo a supporto di questa attività lo voglio dire in maniera molto chiara perché qua lo Stato, il Centro, le regioni devono lavorare insieme per raggiungere quell'obiettivo ci sono già delle richieste che sono state fatte per aumentare anche la performance della struttura regionale tramite l'attivazione dei sindaci che sono fondamentali perché poi il territorio viene vissuto dalle comunità e dai sindaci lavoreremo da subito, da oggi pomeriggio anche su questo perché ripeto, il nostro obiettivo è un obiettivo comune Nella puntata di 7 e mezzo di ieri sera ci siamo collegati con Bruxelles e con la collega di Agenzia Nova Giulia Torbidoni che ci ha dato anche dei numeri di respiro internazionale di respiro europeo per quanto riguarda le dosi di vaccino quindi considerazioni anche abbastanza interessanti e anche molto chiare dobbiamo dirlo ringraziando anche la nostra ospite quindi cerchiamo di capire un po' qual è la situazione qual è stata la situazione del primo trimestre e quale sarà quella del prossimo Allora, per quanto riguarda il primo trimestre che si chiude oggi ma diciamo la settimana viene incluso nel trimestre anche questa settimana che comunque scavalla anche sul primo e il due aprile diciamo così sono attesi quindi entro la fine della settimana un totale di 107 milioni di dosi di vaccini che sono arrivati quindi da gennaio a venerdì a dopo domani nei paesi dell'Unione Europea di questi 107 milioni sono stati 67,5 milioni da BioNTech, Pfizer il contratto ne stabiliva 65 di milioni quindi la BioNTech, Pfizer ha dato diciamo 2 milioni e mezzo in più Moderna da contratto ne prevedeva 10 milioni per questo primo trimestre e ne ha dati 9,8 milioni a AstraZeneca il contratto prevedeva 120 milioni poi l'azienda ha detto che ne avrebbe dati 30 milioni e di fatto ne ha dati quasi 30 milioni 29,8 milioni questo per il primo trimestre per il secondo trimestre quindi quello che si apre adesso in questi giorni ed arriva fino alla fine di giugno sono previsti 360 milioni in totale di dosi 200 milioni da BioNTech, Pfizer 55 milioni da Johnson & Johnson che è il quarto vaccino che si è aggiunto tra quelli autorizzati da EMA e che è monodose quindi queste 55 milioni di dosi significa 55 milioni di somministrazioni 35 milioni se ne avranno da Moderna e da AstraZeneca se ne avranno 70 milioni anziché i 180 l'azienda ha già detto che non può dare i 180 che erano messi su contratto e che ne darà 70 milioni però pure facendo questo conto totale che ognuno di noi può fare comunque 360 milioni di dosi si arriverebbe ad una copertura abbastanza in linea con l'obiettivo che la Commissione Europea vuole centrare cioè di avere a fine estate il 70% della popolazione adulta vaccinata se vi siete persi la nostra chiacchierata con Giulia Torbidoni nella puntata di 7 e mezzo di ieri sera nella prima visione subito dopo il telegiornale c'è la seconda visione e la replica quindi non perdetela perché è stata davvero una chiacchierata molto interessante e molto chiara su diverse questioni che riguardano l'Unione Europea e ovviamente la nostra Italia ora cambiamo decisamente argomento perché l'avrete notato se avete provato a collegarvi al sito internet del comune di Brescia o accedere ad alcuni servizi è tutto in tilt perché la loggia denuncia un attacco hacker il comune di Brescia ha fatto sapere di essere stato bersaglio nella giornata di martedì di un attacco hacker da parte di ignoti la sortita nei sistemi informatici della loggia ha causato dei danni alla rete in seguito ovvi disguidi tecnici anche per quanto riguarda alcuni normali servizi che non possono quindi essere garantiti l'incidente si è verificato nonostante nel comune siano attivi antivirus e sistemi di sicurezza informatica hanno detto dalla loggia che poi ha rassicurato su quanto riguarda il pronto ritorno a normalità presto sarà sporta la denuncia le autorità competenti fanno sapere intanto tecnici sono al lavoro per cercare di ripristinare il corretto funzionamento dei supporti tecnologici e del che online in modo da tornare a regime a rientro dalle festività pasquali Per Pasqua lo sappiamo l'Italia sarà zona rossa ne lo siamo da diverse settimane quindi non saranno ad esempio concesse le gite di fuori porta di Pasquetta però cerchiamo comunque di capire quale sarà la situazione del tempo con gli amici di Trebi Meteo Partiamo come sempre dall'immagine del satellite c'è un'Italia praticamente senza nuvole qualche nuvolamento è presente tra la bassa campagna e la Calabria ma nubi di poco conto e in tutta Italia clima molto mite stiamo toccando i 25-26 gradi all'ombra, al nord e sulle regioni tirreniche tra giovedì e venerdì non capiterà nulla di che ancora pressione di moseca relativamente alta sul Mediterraneo e sul nostro paese invece le cose cambieranno nel weekend di Pasqua perché sabato un fronte freddo si avvicinerà alle regioni adriatiche portando degli acquazzoni dei temporali di passaggio però portando anche aria più freddina alla fine di sabato temperature in diminuzione in tutta Italia e la giornata di Pasqua vedrà anche molta instabilità al sud con l'arrivo dell'aria fredda anche lì con temporali acquazzoni specie Pasqua al mattino domenica mattina invece al centro nord la Pasqua sarà sì un po' più frizzantina ma con anche ampie zone di sereno il lunedì di Pasqueta poi parte bene ma alla fine del giorno nuovo peggioramento a cominciare dal nord arriva una nuova perturbazione anche piuttosto intensa per sapere comunque nel dettaglio cosa capiterà da voi durante questo lungo weekend di Pasqua scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo per lo sport parliamo di Brescia Calcio perché è già vigilia domani il Brescia scenderà in campo alle 19 al Rigamonti contro il Pordenone sono ancora attesi a torbole i quattro nazionali che appunto sono partiti per disputare il tritico di gare con le loro rappresentative e quindi ci sono anche diversi dubbi per il tecnico Pep Clotet in chiave formazione perché prima bisogna appunto valutarli la pausa per le nazionali è giunta al termine nemmeno il tempo di tornare a casa che il Brescia è già chiamato a tornare in campo per una storta di back to back che vedrà le rondinelle impegnate domani alle 19 in casa contro il Pordenone e lunedì alle 17 in trasferta contro la Reggiana sono quindi giorni di ricongiungimenti valutazioni allenamenti con il tecnico Clotet chiamato in queste ore a valutare Biarnason Fridjohnson Joronen e Mateju i quattro reduci dal tritico di partite con le loro rappresentative torneranno sull'erba di Torbole in questi due giorni per quanto riguarda invece il resto della rosa rimasta a Brescia ieri ha effettuato una seduta mattutina improntata sulla tecnica con esercitazioni sulla fase offensiva per poi terminare il tutto con una partitella a campo ridotto terapie invece per Andrea Ghezzi alle prese con un fastidio la caviglia e Simon Scrab provando a dare uno sguardo alla possibile formazione sembra che stante la squalifica di Chancellor sarà Mangraviti a prendere il posto accanto a Cistana in difesa per il resto il mister spagnolo dovrebbe puntare sulla continuità ovviamente nazionali permettendo partita che potrete seguire come sempre con Diretta Stadio che torna dopo la pausa per le nazionali torna domani sera a partire dalle 18.30 si conclude qui invece la nostra edizione del telegiornale vi ricordo come sempre che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito internet livebrescia.tv dove oltre alle notizie come appunto quella che vedete qua nella nostra attestata con le regole di Pasquetta e anche l'autocertificazione è scaricabile perché servirà per i giorni di Pasqua Pasquetta e anche per il sabato trovate anche la diretta di live in questo piccolo box e tutti i banner dedicati per accedere e iscrivervi alla nostra newsletter oppure ai nostri canali telegram e livebrescia news e livebrescia sport e ricevere così tutte le notizie direttamente sul vostro telefono cellulare in conclusione io come sempre vi ringrazio per averci seguito vi invito a tornare con noi questa sera alle 19 per una nuova edizione del telegiornale per il momento un buon proseguimento di giornata e a presto puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e live play del nostro sito internet puoi ascoltarla in versione podcast su Spotify Apple Podcast Spreaker e Google Podcast Spreaker 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 Spreaker